The question is Are we ready for this? Yes Allora in realtà io sono molto forte a questo gioco Quindi mi sento abbastanza confident Io invece non ho mai fatto quindi Non mi sento forte Allora qua io so che c'è un'opzione O vai a destra O vai a sinistra Aspettiamo di là Vi dico subito Sinistra dovrebbe essere una via più breve ma più difficile Destra più lenta ma più difficile C'è più facile Io voglio fare quella più difficile Voglio provare Poi se non so far Ok Ok nel chilling Ora si fa così Boom e boom Vai Gio Ma mi devo fermare là Marti No raga No là ti arrampichi e poi ci sta la parte che ti slitta Kikka buttati no? Vieni C'è caduta Tanto raga sono una persona sincera Io non tiro le bestiemme su questi giochi così Like I don't care actually La devo finire Oggi la voglio finire sta mappa Non mi interessa Ok Ok Porca pavena Va bene il chilling Like non è successo nulla Noi là che speed Ok aspetta Si si va con la speed Si si io l'ho fatto con la speed raga Quindi vi assicuro che la speed funziona quasi sempre Eh il solito fatto che a me è posto A me è posto non mi piance Disse lei Raga che fluidità Cioè guarda qua Eh Marti Indovina dove sto? Ehm Dove stai? All'inizio? Ok io sono la season 2 Arrivederci Camidolo 1 Magari Magari Ci metterò la firma Niente Questa grida perché c'ho la 105 Ok calma Napoli 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 Forza Napoli Oh porco Ah quello fa con le gomme? Non sono ancora caduta No ma comunque A me la gomma si è buggata Dai non vale 5 6 Cosa sei tu Ila? Scusa domanda Non sono fatti tuoi Va va ricillo Forza salite Ok C'è un'acqua che devo salire tipo Ok L'acqua si 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 E vai fino in cima dove c'è il verde Vedrai che tipo ti fa soffocare Tranquilla non muore È normale È un effetto che fa Il trucco Il trucco Si sono tre Easy Nel big chilling bitch Ok tutto nel chilling Tutto nel chilling Queste sono le classiche macchine siciliane Parti già da Napoli Vabbè regà Se gioco così tranquilla Non posso bestemmiare Non posso neanche tiltare Quindi non è Non è un problema Cioè sono serena Dove sta Martina ci sta a casino Dai La immagina perderti nel 2027 Oh sto arrivando a 300 metri regà Ma la speed finisce? No no è infinita Ila Puoi stare tutto il tempo a correre come una matta Ok faccio La guardiana della torretta Ok A dirifura Sì ma non si deve andare Chat Tutto easy per il momento Sono a season 2 Season 5 Si vola raga Grappati per cortesia Che mi viene l'ansia per cortesia Ok 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 Facciamo la strada normale Ok La statina quella dentro il palazzo? Sì Dovrebbe essere una shortcut Ma io non l'ho fatta Esatto No non la voglio fare Oh castor Poi cos'è? Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene 21 metri sei Vabbè Sei a punto di inizio dai Eh sono caduta Eh l'avevo capito se siamo 21 metri Questo lo so fare benissimo però eh Questo per corte Fantastica Siamo ancora qua Tutto Siamo ancora qui No no Mi sei chiestato il piedino Dai raga No 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 Il piedino Il piedino Il piedino componente Calma mi fa entrare Eh se non entra devi mettere un po' di vasellina Ok Io sto salendo su dei minuscchiola Non so se vi interessa questa informazione Ma ve l'ho appena comunicata Ma dove siete voi? Guarda che carina che sono Stava gaffe Io sono nel tubo quello dell'acqua blu Eh cos'è di fare l'idraulico? Un classico film hot L'idraulico viene a casa mia Non ho i soldi per pagarle Quindi Opla che c'hai 40 anni Io lo dici quando ti alzi dal divano Opla Vado veramente Ma Eh perché sei Sei una quarantenne Un po' Opla la Ok Vai verso i 45 Devi dire Opla la No quando arrivi Martina 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 Che c'è che c'è? S'è caduta Eh che affari Porco Ok Oh mio dio Le curve non mi piacciono Non capisco perché non va di qua Possiamo fare shortcut Facciamo così Facciamo così Dai regà Dai regà Dai regà Ci piace così Immagino facendo il primo try Minchia Penso che Ma ancora? In modo randomico Oddio Ho visto Ho visto La prima bestemmia volare In questo momento La prima l'ho vista Cristo santo La prima l'ho vista Proprio la luce di Gesù Che mi guardava Diceva benvenuta nel paradiso A snor Palesemente Stava per accadere Qua devo fare tipo Calabrise style Vabbè Se qualcuno Vabbè faccio questo giro Non so cosa Ok Calma Ci siamo eh Ho perso No ecco Questo non mi piace per niente Tecnica problem Tecnica problem Siamo ancora vivi Non è un problema Tranquilli Andiamo un attimo indietro Riprendiamo alla speed Allora ragazzo Stavo quasi facendo il fail Ok Ah devo girare no? Ok Forza Napoli 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 Forza Napoli Ok Bravissimo Quanti metri sono? 557 Ok Eh ila è lì dall'inizio Tipo Devo trattenerla Non è ancora il momento Di tirarla A me A me A me A me A me potrebbe uscire però Perché io sono già a 1300 metri Quindi Vabbè Tu sei tutta la schillata Tu l'hai già fatta La mappa Non ti manda Sì ma non mi devi fare lo sgambetto Giò Dai la però Dai la Ah però qua posso salire? Ho sbagliato No ho sbagliato raga Eh ormai sono qui Cerco di salire Ho sbagliato Ok Sì ma potevo andare Rettamente là sopra raga Arrivato a un certo punto Non capisco Ma posso salire da qua O no? Sì dice Esatto Vai sopra 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 Sali 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 No Bene raga Almeno posso dire Di aver fatto 20 metri Ok ok Calma Sì sono 9 Calma raga Calma 1600 metri No no è una È una comunque È una comunque Vabbè È perché l'hai detta tutta In un'unica frase Quindi è una Mica sono due C'è lo sclero è per una caduta Quindi è una sub Ogni sclero ogni sub Ebbè è una caduta Quindi sì Io ho fatto così L'altra volta Se cadi una volta E diri 5 bestemme Non è che sono 5 sub È una sub Oh chat Però per il momento Sono pulita Vediamo chi se la becca Mi sono lavata Ehm Vado dritto no normalmente Sì di solito non si sbaglia mai Ho fatto un errore Dici dritto No sto schiacciando i tasti A caso Ok calma Aiuto Ok fermo Ok Chi è che sta volando? Io sta volando È discesa? No Cristo Dio Sì Cristo Dio Cristo Dio Se cadevo ve lo giuro Se cadevo ve lo giuro Del tronco del tronco Do fa qua? No Sì No raga No eh No raga Questo è tutto in shift Cioè questo è tutto Quanto fatto di corsa Ma porco zio Porco Casco 100% 1 2 3 Raga potrebbe essere Eh potrebbe essere il momento eh Mi credete eh? Potrebbe essere il momento Non so cosa sia questa parte Quindi non Vabbè Calma A massimo urlo No Ilaria però Per fastidio che mi dai Ti giuro Oh Porco Ok Ok We are alive We are alive Ok 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 No raga perché c'è un rift? No raga Cos'è sto rift? C'è un sto rift? Fermo Oh porco 2 Matti ora c'è un po' No Ilaria No Ilaria Oh luca Sì vedi È vero Perché ti sto distabilitando Ma sono 2650 metri Manca poco Hai finito allora? Eh sì Non puoi capire che finisci? Fermate 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 Ma se io faccio sempre Chi è che sta volando? Ilaria perché ha fatto sta roba? Ok Te prego Italy per favore Dio Ti voglio bene No raga No raga no Eh mo? Oddio C'è un checkpoint Godicchio tantissimo Ma goto tantissimo Like we don't fucking care actually No Sì vai Ci perdi Ci vincano invece Eh no Eh però Dai cazzo L'hai tirata Ho capito ma Ci sono delle rocce Che sono fatte di una forma fallica Ambigua Tipo del medioevo Tipo Tipo i testicoli del medioevo Che erano un po' tipo Tipo accartocciati Come le pallottole Che faci poi alle scuole elementari Ah no Stai zitta Sono Oh l'hai detto L'hai detto L'hai detto E sono scivolata Fucking incredible Raga Allora lo faccio basta In onore di Berlusca No 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 Aspetta un attimo Ho perso la strada Ah è sopra Ok Easy allora Easy per il boss Oddio raga Oddio è la fine Sono la fine Sono la fine Sono la fine Bravissima Applausi Aspetta Vincila per noi Ti prego Per entra dentro Vai Eh sì No ma mi dissocio Ce l'abbiamo Questa è un'altra sub Regalata Signorina Casa mia Ottimo We have it Si un minciat Per favore Congratulations You completed Only up Modestamente parlando Ora ho fatto Tutta la perfezione Qua nello spazio Mi sono inceppata Mille volte Ste cazzo di rocce Che sono fatte Tipo al ritmo Di Salamalecu Cioè capito no Cioè la parte dello spazio Mi sono un po' inceppata Però meno male Che la cosa del checkpoint Era fatta molto molto Cioè molto easy Che almeno responi Ed è sicuro che non cadi Se no sarei caduta Cioè sarei caduta